E' stato mi solo. E' una volta, vedci, e ha sin famiglia. E' una volta, io ho tre famiglie. Tre famiglie. E' un testo che è così. Qui è ancora la locatoria, mio nonno e suo fratello di 19 anni, lui mi è stato da San Duno. E' stato... La mia mamma era a San Duno. E' un anno di 81. E' stato un testo di 19, che aveva un giorno. E' un'altra scuola di San Duno. E' un'altra scuola di San Duno. Ah, ecco. Il nonno... Parli del nonno materno? Materno. Ah, ecco. Il nonno materno perché... ero... aveva due figlie. Ah, ho capito. aveva quattro figlie. Ah, ecco. E' un'altra scuola di San Duno. Ah, ecco. E' un'altra scuola di San Duno. Ah, ecco. L'artiglia di San Duno. E' un'altra scuola di San Duno. Il Dio è un paletto. E' un paletto. E' un paletto. E' un paletto. E' il paletto. E' un paletto finché... Ah, ecco si, sono tutti i bersaglieri. Ah già, ti dimmi che ti vieni bersaglieri. E ho chiesto di mare, se mi mando lui e arrivo... Ah già. Ho chiesto di mare, mi fai vede 51. Ecco, ecco. E sono tutti i suoi, fuori tutto in Toscana. Siena, Rigorio, Ciccina. E invece, prima del soldato, gli è passata la guerra. Cosa si? Oh, certamente.